Grazie Presidente Monti, ringrazio il Presidente De Molle di aver dato spazio anche quest'anno ai temi della giustizia, in particolare in chiave europea, e sono veramente felice di poter condividere qualche riflessione con il Commissario Reinders, col quale abbiamo fatto un percorso in questo anno e mezzo veramente molto significativo. Vorrei utilizzare il tempo che mi hai dato per esplicitare in qualche modo, documentare quanto l'Unione Europea sia stata e sia un partner decisivo, discreto ma vigile e incisivo per l'opera di riforma del sistema della giustizia in Italia che il governo Draghi ha realizzato in poco più di 18 mesi di attività. La mia esperienza pratica, la mia esperienza pratica, la mia esperienza pratica è che non c'è un contrasto tra l'opposizione tra una forte Unione Europea e una forte riforma nei stati nazionali, solo l'opposizione. Abbiamo avuto un supporto mutuo in questo campo. Lo scorso anno qui ho avuto il privilegio di enunciare l'ampio programma di riforme e di investimenti nel piano della giustizia e del governo, legati soprattutto alla PNRR. Abbiamo portato a termine quasi tutto, c'è un ultimo passaggio. Abbiamo accelerato nel mese di agosto la presentazione dei decreti attuativi della riforma civile penale per dare alle Camere i 60 giorni necessari e quindi consentire al governo la finale approvazione di questi testi. Abbiamo iniziato un programma di investimenti molto ampio sul personale, sulla digitalizzazione e sull'edilizia, grazie agli interventi del PNRR. Ma qui vorrei attirare l'attenzione su un altro strumento che è stato citato ora dal Commissario Rendersi, il rapporto sulla rule of law, che sta dando dei frutti molto importanti per attuare quei valori dell'Unione Europea che costituiscono la nostra identità comune, a partire dal testo dell'articolo 2 che oltre alla democrazia cita appunto proprio i principi della rule of law. Qui siamo al terzo rapporto, alla terza edizione del rapporto, che costituisce un'occasione per gli Stati membri di guardarsi allo specchio attraverso le lenti dell'Unione Europea sul funzionamento del sistema giudiziario attraverso quei tre criteri che sono un mantra spesso ripetuto dal Commissario Rendersi, indipendenza, qualità ed efficienza del sistema giudiziario, oltre al contrasto alla corruzione, il sistema dell'informazione e il sistema dei checks and balances, gli organi di garanzia. E posso dire che questi rapporti sono un contributo importante per la solidità, la manutenzione e anche il rinnovamento delle nostre infrastrutture istituzionali, in particolare l'infrastruttura giustizia che è così essenziale per ogni democrazia. La domanda che mi pongo e vi pongo è perché l'Unione Europea ha un'attenzione crescente al corretto funzionamento del sistema giustizia. In fondo non c'è una competenza diretta, non è un settore armonizzato, ogni Stato membro ha la sua identità, il suo modo di funzionamento della giustizia. Siamo noi i responsabili del funzionamento del sistema giustizia, ma l'Unione Europea è sempre più attenta e chiede un livello, uno standard, degli standard europei che siano rispettati da parte di tutti. Questo tema è ben noto in questo contesto. Ricordo bene che il rapporto 2020 presentato da Ambrosetti metteva con dati e statistiche importanti in correlazione il complessivo benessere del sistema economico-sociale, l'ambiente in cui operano gli imprenditori e un corretto funzionamento del sistema giustizia. C'è un nesso molto più stretto di quanto si possa immaginare. Io vorrei riprendere questa intuizione, il collegamento tra il benessere economico e sociale dell'intera convivenza civile e il sistema giustizia, vista anche l'ora siamo tutti un po' stanchi, con un'immagine che chiedo di proiettare, che viene molto italiana. È l'immagine dell'affresco del buon governo che campeggia nel comune di Siena, in particolare nella Sala dei Nobe, perché lo proietto è appena stato restaurato. Commissario Render, se vuole venire a vederlo, apre in ottobre, mi candido ad accompagnarla, perché è un'esperienza bellissima. Siena è una città straordinaria, e questo affresco, secondo me, è pieno di spunti di ispirazione. Vorrei sottolineare tre, tra i tantissimi suggerimenti, di questa visione allegorica. La prima è che questa immagine che descrive il buon governo, cioè quando un sistema istituzionale funziona bene, mette all'inizio proprio la giustizia. Io non ho qui un puntatore, ma quell'immagine di quella donna, nell'angolo sinistro, proprio come inizia una narrazione, perché questi affreschi sono... Grazie, ma non so se... Ecco, la vedete lì ingrandita. È nell'angolo sinistro dell'affresco, è proprio l'immagine della giustizia come un invito a tutti i governanti a partire da lì, perché tutto ciò, il primo messaggio, tutto ciò che i reggitori del governo ricevono arriva proprio da quel punto. Il secondo passaggio, vi prego di tornare all'immagine precedente, perché si vede l'effetto complessivo. Se voi vedete, dall'immagine della giustizia escono due funi dai due angeli che sono accanto alle due piatti della bilancia, che attraversano tutta la catena del potere, perché scendono nelle mani della donna che è sotto la giustizia, che è la concordia, e passano nelle mani dei 24 reggitori dello Stato per poi arrivare al vecchio, che è il sovrano, che governa tutto il sistema. E' interessante quest'idea che c'è un elemento unificante capace anche di ridurre ad unità la pluralità dei punti di vista, la pluralità che compone la vita politica, perché questi 24 uomini sono tutti diversi per età, stato sociale, eccetera. Una bella immagine anche per il progetto europeo, diciamo così, che insiste sempre sull'unità nella diversità. L'ultimo aspetto tra le tante immagini ci porta in uno scenario completamente diverso. Voi vedete che al sovrano è sostituito il tiranno, quell'immagine un po' tetra, sembra quasi un po' un diavoletto con le corna, che descrive che cosa accade quando la democrazia diventa una autocrazia, una forma di tirannia. La prima cosa che si vede è che la nostra giustizia che campeggiava così solennemente nello Stato democratico diventa qui una donna legata e quella donna in basso sembra una mummia avvolta in un lenzuolo. Giustizia sta legata, dice proprio la canzone che descrive tutto l'affresco, e gli effetti dove la giustizia sta legata li vediamo nell'ultima immagine che vi propongo, che è quella di una desolazione totale della città. Cioè non è soltanto un cattivo funzionamento del sistema, ma proprio anche la vita economica e sociale. C'è solo morte, violenza, sopraffazione. Ecco, vorrei sottolineare con queste immagini la concretezza, il nesso, perché i sistemi della giustizia sembrano fatti solo per gli esperti, per quei giuristi che sono iniziati a quegli strani linguaggi che noi utilizziamo. Non è così. C'è un effetto diretto, immediato, conseguenziale, tra lo stato di salute del sistema giustizia e lo stato di salute generale della nostra vita sociale. Per questo in questa giornata, ho già finito il mio tempo, però non posso non ricordare in questo momento rivolgere un pensiero riconoscente ai tantissimi che servono la giustizia e soprattutto a chi l'ha servita lottando contro la sopraffazione e anche la prevaricazione mafiosa fino al sacrificio della vita, perché oggi è il quarantesimo anniversario del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ha ucciso esattamente 40 anni fa insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro e all'agente della scorta, Domenico Russo, a Palermo. Non voglio sforare il tempo che mi è concesso, avrei potuto fare un lungo elenco di tutti i provvedimenti che il Governo Draghi ha assunto nel campo della giustizia. Qualcuno mi dice adesso dobbiamo riscrivere tutti i programmi degli studi giuridici, perché i settori che sono stati oggetto di intervento e di innovazione sono stati molto ampi. Per chi sarà interessato posso rispondere a qualche domanda specifica nel dibattito che segue. Però permettetemi davvero di concludere sul concetto iniziale. La pressione, la spinta gentile, il nudging che l'Unione Europea ha condotto nei confronti degli Stati membri attraverso i vari strumenti in campo, il rapporto sullo Stato di diritto, sulla rule of law, il PNRR e gli altri che sono stati citati dal Commissario, sono stati un fattore decisivo per arrivare a completare tutte le milestone che ci eravamo prefissati e noi concluderemo gli impegni che avremo con la giustizia prima di lasciare appunto questa esperienza di governo, anche superando difficoltà e differenze di vedute che non ce lo neghiamo erano fortemente presenti nella maggioranza politica che sosteneva questo governo. una soddisfazione se posso esprimerla al termine di questa esperienza ha proprio a che vedere con il metodo quello di aver avuto il privilegio di accompagnare una trasformazione così importante del settore giustizia in Italia attraverso il raggiungimento di intese condivise da tutti dopo decennali contrapposizioni oserei dire dissidi sul tema della giustizia nel nostro paese l'immagine della giustizia che avevamo visto prima non so se siamo in grado di riproporla la numero 2 è un'immagine della giustizia molto concentrata e intenta oltre che a cercare ispirazioni dalla sapienza che la sovrasta a tenere in equilibrio a tenere il fulcro della bilancia in modo tale che quell'equilibrio sempre si realizzi per passare consegnare i frutti del suo lavoro alla concordia ecco forse è un po' questa l'immagine che abbiamo cercato da cui abbiamo cercato di trarre ispirazione bilanciamento degli interessi delle visioni nelle proposte di riforma che abbiamo fatto e ricomposizione di una concordia in un terreno che certamente non era su cui questo obiettivo non era dato per scontato del resto il nesso tra giustizia e pace concordia interna ma anche pace internazionale è stata sottolineata dal presidente rendersi dal commissario rendersi in modo così chiaro e noi insieme a tutta l'Europa abbiamo dato il nostro contributo per riportare la forza del diritto laddove sta prevalendo la forza delle armi grazie grazie grazie